Non vi può essere contrasto tra vera scienza giuridica e fede cristiana che costituisce essa stessa la più viva espressione della verità oggettiva. Il filo che lega la nostra Costituzione alle tradizioni romane e cristiane. Si è tenuto nella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato il convegno che ha visto il cardinale Raymond Leo Burke, patrono del sovrano ordine di Malta raccontare e spiegare l'importanza della tradizione cristiana nella stesura del testo più importante per la nostra democrazia. Tra gli ospiti del convegno anche il senatore Carlo Giovanardi. In una società, in una politica, in un momento che sembra dimenticare il passato, non ricordare nulla, vivere di messaggi che durano un secondo e ricordare la nostra storia e che le nostre radici e che la nostra Costituzione non nasce all'improvviso dai grandi uomini che le hanno scritte ma che alle spalle secoli di elaborazione civilistica, romanistica e poi questa impronta cristiana è fondamentale perché la Costituzione non è un orpello, è un sedimento di saggezza che va ripreso e ricordato, adesso il vero problema è come nella scuola italiana queste cose possono essere tramandate e che anche i giovani possano spezzare il pane di questo immenso deposito di conoscenza e di saggezza. Dall'apporto della tradizione canonistica ai dibattiti sulle leggi per il matrimonio e il divorzio passando per il concordato tra Stato e Chiesa del 1984 le tracce romane e cristiane nella Costituzione italiana sono diverse e hanno avuto un ruolo significativo nel corso degli anni.